Proseguono le polemiche a seguito delle elezioni per la presidenza della provincia di Teramo, in particolare nel centrodestra. Dopo il botte e risposta tra l'ex assessore regionale Paolo Gatti e Ivan Costantini, sindaco di Giulianova e coordinatore provinciale della Lega, ora nella bagarre politica è intervenuta anche Marilena Rossi, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, definita dal sindaco costiero, persona simpatica e cortese. Per definirmi simpatica e cortese non c'entra niente con la politica, io ho fatto una disamina politica su ciò che era avvenuto ed è alla luce dei fatti, il sindaco Vagnoni è stato abbandonato per strada dalla Lega facendo un accordo con il giusto eletto Camillo D'Angelo e poi ha riverberato contro Fratelli d'Italia. Noi siamo stati molto coerenti, abbiamo iniziato un cammino, l'abbiamo finita con chi abbiamo iniziato, quindi con il sindaco Piccioni, tutto il resto sta scritto e lo vedremo nei prossimi giorni. Non ci piace assolutamente quello che mi viene detto, né nei modi né nella sostanza. Forse vorrei ricordare a lui, che è il coordinatore della Lega in provincia di Teramo, che in regione e anche al governo nazionale abbiamo la stessa coalizione. La spaccatura creatasi all'interno della coalizione di centrodestra a livello provinciale potrebbe portare ripercussioni in vista delle prossime amministrative in programma a primavera. Per questo motivo l'esponente del partito guidato dalla Premier, Giorgia Meloni, chiede una pace politica. Mi auguro che i toni si attutiscono e si appiattiscono, soprattutto nel senso della buona politica, perché i cittadini hanno solo bisogno di risposte e non di urli e di sbraiti, quello a cui si siamo ormai abituati negli ultimi tempi. Fratelli d'Italia ha fatto una scelta giusta e l'ha portata fino alla fine, così non è stato per gli altri e questo è un punto di domanda anche per le prossime amministrative, sia a Teramo che negli altri comuni. Quindi io chiedo sicuramente una pace politica per i cittadini, ma se ciò non dovesse avvenire Fratelli d'Italia è pronta a scendere in campo, come ha sempre fatto.